chi è? toc toc! buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video da parte mia angela paolo che dietro la telecamera come sempre col pollicione e viaggio il nostro minivan la nostra casetta su ruote abbiamo lasciato un po di lavoretti da fare anche quando siamo partiti ormai sono passati cinque mesi dalla partenza e adesso è arrivato il momento di sistemare queste piccole cose che erano rimaste un po indietro quindi in questo video qualche lavoretto ma anche posti bellissimi perché ovviamente questi lavoretto li facciamo in una location pazzesca quindi ragazzi buona visione e buon video va nel biagino con la lanterna sopra che bella giornata finalmente senza lancio ma con aggancio ragazzi abbiamo già fatto colazione abbiamo aperto tutto fa un caldo mi si è cucinata la schiena praticamente mentre ero qui si è finito il vento c'è un bel sole siamo proprio con vista mare ecco qua viaggino scaldato adesso siamo pronti in partenza capello schiacciato guarda qua tutti i ciuffetti che sparano stirati tagliare i capelli prima possibile allora abbiamo guardato le previsioni un bel sole ci aspetta e le temperature inizieranno a salire da domani in realtà oggi fa ancora un po freddo però direi che se non c'è vento è proprio il clima perfetto e adesso proseguiamo nell'esplorazione di questa penisola andiamo ancora un po verso sud siamo arrivati nel paesino di coroni proprio sulla costa nel punto più a est di questa penisola coroni pare proprio carini sì che battuta e dove devo andare? destra o sinistra? destra stiamo andando al parcheggio dove lasceremo il viaggino per poi metterci un po' a esplorare tutta la zona manovre di parcheggio abbiamo trovato il posto che è spettacolare perché c'è questa bellissima spiaggia che sembra completamente abbandonata di sopra c'è una chiesetta e adesso qui ci siamo sistemati per bene c'è un sacco di spazio in realtà perché non c'è nessuno e noi siamo piccolini e adesso poi andiamo a farci un giro qui della cittadina dovremmo camminare un po' dovremmo andare praticamente all'altro lato lì sopra c'è anche una fortezza come ti sembra? beh spettacolo eh cavolo poi sono venuti carini no? è ripreso colore un po' ravvivati sì molto guardate abbiamo scoperto che qui sotto abbiamo anche la doccia quindi se tiene questo tempo il vento ci facciamo anche la doccia non so se oggi o domani vediamo la vista di là assurda e anche di qua andiamo dai dobbiamo scavalcare la montagna abbiamo già mangiato due uova una pitta e via leggerissimi e ora attività fisica che profumo che c'è colesterolo se ne va bye bye addio al colesterolo cosa che verrà di no al colesterolo sì a Valsoia come gran parte dei paesini in Grecia anche questo è un bel labirinto poi ci sono piante di limone ovunque là in fondo sullo sfondo la neve sulle montagne una chiesetta qua davanti anche là sì mi vecchi sempre che prende il sole ce la stava godendo anche là in effetti si sta veramente bene è molto rilassante questa è la e coroni da questo lato c'è la fortezza qui dietro il castello e qui invece siamo al porto che è praticamente un'insenatura e quindi è un porto naturale anche qui l'acqua è calma non c'è tanto vento eccolo qua il porto questa penisola si chiama Messenia e le altre due penisole del Peloponneso in ordine da sinistra verso destra sono Messenia appunto Mani e Capo Malea se non sbaglio grazie grazie sembrava leggessi invece no 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 lo stavo leggendo grazie ragazzi sembra che sappiano della mia dieta non so come è possibile questa cosa ma è qui davanti a noi praticamente nella piazza principale di coroni sotto queste belle palme c'è questo monumento con un olivo dietro è un monumento che dice appunto la dieta mediterranea è un patrimonio culturale intangibile dell'umanità quindi è un patrimonio unesco e queste sono le città che sono segnate cioè coroni, cilento, soria e cefciowen che è in marocco hai capito? dieta mediterranea è quella che stiamo seguendo tra l'altro e infatti come sapete mi sto sentendo molto meglio quindi complimenti è bello perché ogni un tot ha giorni sulla tua dieta certo io devo aggiornare assolutamente cioè non è l'unesco che confermo sono io che confermo ragazzi questo castello bellissimo che domina la città anche questa opera dei veneziani praticamente da quando siamo in croazia che vediamo queste cittadine che sono state costruite dai veneziani guarda che bello dietro la scogliera là dietro oi oi grazie a tutti grazie a tutti guarda che bello queste insegne tutte fatte a mano scritte a mano guarda lì c'è il barbershop il barbiere di là dall'altro lato è un paesino molto cioè che sicuramente vive d'estate sì perché adesso è praticamente tutto chiuso però molto carino le vie così strette tutte ciotolate è molto bello ma ci sono anche tutti i panni stesi ma che bello siamo arrivati qua su sulla collina entriamo al castello di coroni sembra Alice nel paese delle meraviglie guarda c'è la foglia gigante ma la porta minuscola è vero vai tutto un gobbina ma addirittura io mi devo abbassare che c'è che gobbina vediamo anche un po' stringere che vista da questo monastero sulla spiaggia c'è un piaggino nascosto all'interno delle mure del castello ci sono tante chiese e anche un monastero se andiamo verso la spiaggia come danza bella sabbia va che postazione che abbiamo trovato manca solo la birra eh sì magari niente birra niente birra niente di niente se vuoi facciamo una limonata abbiamo un succo di limone questa è la vista questa sarebbe la vista esagerata neanche ti piace la birra ora ci vorrebbe che giornata top stamattina ci siamo svegliati ci siamo rimasti abbiamo perso tutto dietro siamo rimasti una mezz'oretta a guardare le onde questo ragazzi è il posto ideale per fare qualche lavoretto innanzitutto mentale esatto come lo yoga ho fatto un po' di yoga stamattina ci voleva mi ricordo un po' di tempo che non lo facevo più e avevo proprio bisogno di mettermi un attimo da sola per rumore delle onde bello 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 poi un po' di pulizia personale quindi ho cominciato a tagliare i capelli ma si è scaricato un'altra volta e l'ho rimesso in carica sapete noi abbiamo la mega batteria che ancora carica al 91% quindi ho messo in carica il tagliacapelli dopo 20 giorni praticamente abbiamo dato solo il 9% ancora il 91% ecco in 20 giorni non male e poi dobbiamo fare gli altri lavoretti ho già tolto tutti i tappetini davanti così così sistemiamo due cosine era lunga praticamente dopo tutte le piogge che ci sono state abbiamo avuto delle infiltrazioni lo sapete ci entrava l'acqua gocciolava sotto i tappetini sia del passeggero che del guidatore e quindi si è formata un po' di ruggine soprattutto sotto dalla parte dove guida Paolo quindi sotto il tappetino adesso dobbiamo grattare via un po' la ruggine e poi abbiamo preso questa pittura antiruggine grigia purtroppo blu non c'era e quindi diamo una mano di quella per cercare di bloccare un po' la cosa evitare che diventi più grave la cosa insomma vai vai gratta abbiamo dato una bella sgrattata sia da questo lato lato passeggero che lato guidatore quello guidatore è messo decisamente peggio abbiamo fatto il meglio che potevamo con la carta vetrata che abbiamo preso adesso passiamo il primer oggi facciamo un sacco di cose già che ci siamo visto che abbiamo preso la bomboletta blu qualche giorno fa facciamo il reflectix dietro lo dipingiamo di blu e magari riusciamo a dipingere anche l'altro pannello visto che ieri ne abbiamo fatto uno su due vediamo insomma un po' di lavoretti e poi finito tutto ci facciamo pure la doccia che visto che c'è ah altra cosa la guarnizioncina da mettere sul portellone sì perché si era staccata con la pioggia la rimettiamo apriamo il primer da mettere per l'antiruggine vai bello e vai si comincia devo abbondare di più ti mancava dipingere? era da quest'estate è da quest'estate in effetti è venuto addirittura il mal di polso in effetti sì mi gusta mucho comunque questo si asciuga abbastanza veloce in un'ora ma tanto noi oggi stiamo qua lasciamo tutto aperto e facciamo asciugare per bene bella spennellata sul primo lato è qua è proprio tocca al lato passeggero che invece è messo un po' meglio è proprio dove ristagnava l'acqua ancora per evitare le infiltrazioni dobbiamo trovare il giusto silicone da mettere sul vetro davanti quindi per ora questo ci permette un attimo di stare tranquilli che non si formerà altra ruggine però poi dovremmo pensare anche al davanti al parabrezza sicuramente pensavamo di fare primo passaggio con il primer e poi una bella spruzzata di blu così torna tutto come nuovo qui c'è una coccinella Angela salviamola no si 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 aspetta salva la coccinella salva la coccinella vai non si attacca non si attacca Angela aiutala no non farla andare sul primer poverina sono spaventata vai è salva è salva è salva a posto come sono ridotti questi capelli tagliati a metà non si vede dai vado vai vediamo che colore tutto chiuso vai questo è il colore un bel blu posso parlare anche un po' io sembra divertente certo anche quindi riepiloghino cosa abbiamo fatto allora abbiamo passato il primer per la ruggine di qua e di là dopo ovviamente aver passato la carta abrasiva per togliere tutti i segni di ruggine che non erano poi così tanti poi abbiamo passato il blu su questo reflectix così da fuori si vedrà solo blu non si vedrà quel grigio visto che ancora non siamo riusciti a fare il vetro nero qua dietro poi abbiamo fatto il bucato lasciamo qua all'ammollo un po' e poi ci pensiamo e che altro? abbiamo colorato un po' meglio ah anche l'ha fatto un po' di colore a questo lato facciamo molto meglio e ora si magna ora si magna pasta coltina adesso si è asciugato tutto e passiamo un po' di blu vediamo cosa succede eh dai no malissimo eh abbiamo dato fondo alla bomboletta ecco qua cosa è uscito ma per niente male eh perfetto com'è? fresca c'è un sole oggi ragazzi secondo me siamo almeno a 15-16 gradi cioè finalmente oggi ragazzi trattamento completo ci siamo lavati abbiamo sistemato il van ecco qua un Paolo felice che ha fatto la doccia si è appena messi i piedi nel mare dopo il gelo di questi giorni sembra primavera spettacolare qua vado a fare un giretto dopo la giornata di lavoro e pulizie è volata è volata oggi si volata andata siamo usciti a fare un giretto siamo tornati al paesino già che ci eravamo ci siamo comprati una bella pagnotta per stasera bel baguettone mezzo chilo si hanno aperto tutti i negozi verso le 4 e mezza 5 praticamente e perché prima era tutto chiuso quindi appena aperto il panettiere ci siamo fiondati pagnotta che praticata di là e di qua si sale andiamo a caso sinistra grazie a tutti i nostri spettacoli ragazzi qualche giorno fa al supermercato avevamo comprato questa senza sapere bene cosa fosse abbiamo studiato un po abbiamo scoperto che è la mela cotogna o pera cotogna vista la forma della forma di pera in effetti sa un po di pera e un po di me esatto perché l'abbiamo assaggiata anche se non si dovrebbe mangiare cruda in realtà ma per la prima volta l'ho assaggiata nella mia vita e devo dire che non è male allappa un po spugnosa allappa un po tutto però il sapore è fresco e a metà tra mela e pera quindi adesso pensavamo di farla a pezzettini in padella magari con un goccino di miele eh dai tipo mela al forno pera al forno non so vediamo cosa esce perché non saprei come usarla se no proviamo come al solito ecco la collezione di biancheria playboy anche che piace molto ho visto e in molti sono domandati queste mutande le abbiamo comprato in messico ti ricordi al supermercato in messico e insomma siamo in una lavanderia mentre paolo è uscito un attimo a buttare l'immondizia io qui intanto ho iniziato a cucinare qualcosina allora la mela cotogna alla fine era molto buona ci ha messo un bel po a cucinarsi però è venuta tipo marmellatina perché alla fine il sapore è molto buono è molto dolce ce la siamo mangiata prima di filmarla e quindi potete fidarvi sulla parola però abbiamo letto poi comunque che si usa tanto per fare le marmellate e quindi abbiamo fatto un po una versione un po rapida però non è male devo dire non è male non l'avevo mai mangiata in vita mia qui invece ho tagliato carote e patate stiamo facendo bollire un po di verdurina adesso vediamo se magari aggiungerci un pacchettino di noodles con gli istantanei buttiamo dentro facciamo tipo zuppetta un po asiatica abbiamo fatto un po di lavoretti in questo video ma come sapete noi non lasciamo bricolager bricolager cos'è? neanche faidateor che belle parole nuove che ti sei inventato ma noi lasciamo viaggiatori ecco però insomma ci adattiamo ci adattiamo a tutto poi ci prendiamo anche gusto ogni tanto devo dire la verità si prende un po gusto a fare queste cose il biagino vabbè è nato in modo veloce quest'estate però insomma ci sono sicuramente un po di cosine da sistemare ogni volta e vabbè non ci tiriamo indietro dai ci sta ci sta è anche abbastanza divertente si impariamo anche tante cose no? tante cose che non sapevamo proprio fare prima abbiamo imparato sia sul mezzo proprio ma anche su come camperizzare sistemare trovare le soluzioni più adatte e sappiamo anche che è sempre una cosa un po in evoluzione nel senso anche quando avevamo carmensita siamo partiti con un bancale e un materasso un bancale ma ve lo ricordate quel bancale che avevamo messo sulla carmensita appoggiato lì? e via siamo partiti pornelletto bancale siamo partiti c'è da dire che avevamo già tutto poi però abbiamo capito comunque che ci conveniva sistemarlo un po' abbiamo ridimensionato la cosa è approfittare degli spazi al millesimo proprio si 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 che era poi la cosa più importante soprattutto quando un mezzo non è enorme ma in realtà anche quando è enorme bisogna saperli usare bene gli spazi usare bene sennò diventa comunque un caos no? non si trovano le cose noi diciamo sempre per noi la cosa più importante è riuscire a fare tutto in modo rapido e comodo è quello che cerchiamo sempre di fare è con questa idea che abbiamo anche camperizzato Biagino col mobiletto che scende abbiamo tutte le cose pronte prendi fai sistema questo ovviamente richiede essere piuttosto ordinati perché sennò ci si perde ma anche un po' di adattamento no? anche no l'ho dovuta un po' eh ridarguire ridarguire perché lei con l'ordine insomma insomma no però vabbè dai poi un piccolo spazio cosa possiamo fare non è che più di tanto di casino si possa fare se non ci entriamo più noi più che altro bene ragazzi noi vi salutiamo mi raccomando iscrizione al canale un like un commento siate buoni dateci il vostro affetto il vostro amore anche tanti consigli suggerimenti anche consigli sono sempre ben accetti tranne gli insulti è tutto accetto quindi grazie ragazzi noi ci vediamo al prossimo video e vi diamo un bel abbraccione di gruppo attento alla pentola che sono attivi di una cena stasera alla prossima ciao